In Europa ci sono molti paesi in cui i pensionati italiani possono pensare di trasferirsi in quanto è prevista una tassazione agevolata della pensione. Insieme al Portogallo principalmente un altro paese che ha un ottimo regime fiscale riguardante le pensioni è la Grecia che ha previsto infatti a partire dal 30 novembre del 2020 un regime agevolato per i pensionati che trasferiscono la propria residenza nel paese. Il regime fiscale agevolato è però temporaneo e avrà la durata di 10 anni. In che cosa consiste l'agevolazione? Le pensioni di fonte estera a rispetto attenzione di determinate condizioni verranno tassate con una liquida sostitutiva. Si tratta di una tassazione forfettaria e la liquida sarà al 7% soltanto però per 10 anni. Qual è lo scopo? Quello di incentivare il trasferimento di soggetti per cercare di accrescere maggiormente l'economia del paese. Gli impatti però si vedranno probabilmente soltanto nel corso del 2021 o anche probabilmente nel 2022 visto che questo regime è entrato in vigore soltanto nel 2020. Quali sono i requisiti? Bisogna essere persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera e è necessario trasferirsi fiscalmente in Grecia e avere una residenza estera pregressa. Per quanto riguarda il requisito del trasferimento fiscale in Grecia il pensionato deve trascorrere in Grecia almeno più di 180 giorni all'anno e soprattutto deve dimostrare di voler stabilire il centro dei propri interessi vitali cioè il centro dei propri interessi familiari ed economici in Grecia. Possono esercitare l'opzione per il regime dei pensionati esteri però le persone fisiche che trasferiscono la residenza in Grecia provenienti da paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa cioè stati che consentono un adeguato scambio di informazioni ai sensi della direttiva numero 211 2016 dell'Unione Europea. Per quanto riguarda il secondo requisito invece avere una residenza estera pregressa è richiesto che i soggetti non devono essere stati residenti in Grecia nei periodi di imposta precedenti a quello in cui l'opzione del regime dei pensionati diventerà efficace. È prevista dicevamo una tassazione flat con l'aliquota al 7% ma soltanto per i pensionati che sono ex lavoratori nel settore privato. Questo perché per gli ex dipendenti pubblici non è possibile chiedere all'Inps di erogare la pensione lorda senza le trattenute fiscali e l'Inps quindi continuerà a tassare alla fonte la pensione. In questo caso che cosa succede? Soccorre l'articolo 19 del paragrafo 2 della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Grecia e Italia. Questo articolo regola la tassazione dei redditi da pensione da servizi resi allo Stato. E che cosa ci dice? Ci dice che questi redditi vengono tassati soltanto nel paese di provenienza. Quindi questo articolo ci dà indirettamente la soluzione per poter usufruire del sistema di pensionistico agevolato in Grecia anche se si è ex dipendenti pubblici. La soluzione è quindi quella di chiedere la cittadinanza greca.